Il sogno che si realizza per il simpaticissimo, per il bravissimo colibri colombiano e poi vediamo ancora l'ultima fase della corsa con Diego Rosa che affronta in testa la curva ai 250 metri raggiunto prima da Vigo Bertrand, che però non è anche che riesce ad affiancarlo e saltare tutti i 10 metri da Esteban Chavez, la prima volta di una compiata, la prima volta di un accordatore non europeo alla Lombardia